Domenica 10 marzo su Fano TV prende il via il programma Eletti in cucina, ne parliamo con l'idiatore e conduttore Sergio Ferri, benvenuto. Grazie per questa opportunità. Questo programma sbarca su Fano TV ma è già la sua seconda edizione, che cosa prevede il format? Dunque, faccio una premessa, questa è stata una mia intuizione di oltre 15 anni fa, all'epoca ne parlai con alcuni amici e poi puntualmente finì dentro un cassetto. fino a che nel 2020 non sono riuscito a realizzare la prima serie che appunto è poi andata in onda ma si è fermato improvvisamente purtroppo per la pandemia che all'epoca successe, quindi lockdown eccetera. Adesso dopo quattro anni sono di nuovo all'opera per produrre questa nuova serie che andrà in onda appunto su Fano TV. Il format è vicino a quelle che sono le trasmissioni televisive dedicate alla cucina, anche se io ho messo un elemento che ancora perlomeno non ho visto in altre trasmissioni. Cioè io porto in rilievo come protagonisti quelli che sono gli eletti, cioè le persone che per svolgere il proprio ruolo in società devono passare attraverso un'elezione. Quindi diciamo che è una gara di cucina tra eletti, nella prima serie erano i sindaci, in questa seconda serie sono i presidenti di società sportive e poi durante una cena aperta al pubblico ad un prezzo speciale appunto col pubblico presente e con una giuria invece formata da opinion leader, imprenditori, giornalisti, gastronomi eccetera riusciamo a fine serata ad eleggere invece quello che ha vinto la serata, cioè il presidente di società sportiva che viene eletto in cucina. Ecco, alcune puntate sono già state registrate e andranno in onda a partire da domenica sera alle ore 21 qui su Fano TV. Chi sono i protagonisti della prima sfida? Sì, rispondo alla prima parte della domanda, cioè sono state già realizzate quattro puntate e quattro invece devono ancora venire. Le prossime quattro saranno registrate a Cagli, Pesaro, Urbania e Fermignano. Naturalmente le serate si svolgono in ristoranti, abbiamo messo cura a scegliere anche ristoranti di un certo rilievo, prestigio, in modo da dare a tutto l'insieme un valore aggiunto. La prima puntata è stata registrata l'8 febbraio al ristorante La Lisha D'Aori featuring Casa Orazzi e i protagonisti sono Paola Porfiri, presidente della società sportiva ginnastica Aurora e Graziano Carletti, presidente invece dell'Alma Juventus ciclismo di Fano, tutti e due di Fano. In giuria erano presenti il presidente della provincia Giuseppe Paolini, l'ideatore e direttore artistico di Passaggi Festival Giovanni Belfiori e Luciano Cecchini, presidente invece degli alberghi consorziati di Fano. Quindi diciamo una serata oltre al pubblico con questa giuria per stabilire chi tra la signora Porfiri o il signor Carletti ha vinto la serata. Però questo non lo posso dire qui perché bisogna vedere la puntata per capire. E allora ringraziamo Sergio Ferri, io invece vi ricordo l'appuntamento con appunto eletti in cucina per domenica sera alle ore 21 su Fano TV.